Ciao a tutti, altro video della serie pazzi per la spesa. Nel video precedente vi avevo fatto vedere come si può risparmiare utilizzando coupon e offerte del supermercato. In quel caso avevo risparmiato il 70% sulla spesa. E vi avevo detto che avevo preso 6 dentifrici della colgata a 4,99€. Quindi li ho presi, erano in offerta e dentro c'è questo foglietto e dice Fai il pieno di sorrisi, un buono carburante coate da 10€ in regalo acquistando questa confezione. Compila sul retro e spedisci entro 5 giorni dall'acquisto. La cartolina che trovi sui prodotti unitamente allo scontrino originale di questo acquisto, e poi c'è l'indirizzo, massimo una partecipazione per busta inviata. Questa operazione, qua non si vede, è valida dal 10 agosto 2013 al 10 febbraio 2011. Se volete vedere il regolamento andate su colgate.it. Ovviamente i carichi di spedizione sono a carico del consumatore, però una busta è un franco bollo, quindi niente di che. Comunque qualche euro sulla benzina si guadagna lo stesso. In più, qua dice, ecco, Se acquisti uno spazzolino colgate o un colluttorio colgate Plax, partecipi all'estrazione di 10 buoni carburante da 1000€. Concorso valzo dal 10 agosto 14 febbraio. Sviluppo economico, totale montepremi 10.000€ di premi in palio, cioè 10 card prepagate da 1000€, spendibili nelle stazioni Kuwait. Regolamento sempre sul sito di colgate. Quindi, già che c'ero, ho preso anche il colgate Plax. Questa è la scheda. Vedete? Qua c'è sempre il consenso dei dati. E basta. Quindi, ora procederò a spedire, quando mi arriverà il buono, fra un bel po'. Ve lo farò vedere. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao!